Sciatteria? In preparazione? Ilari Blasi e Alvin ci ridono su, dall'alto di ascolti che danno loro ragione, visto che il pubblico di Canale 5, al di là delle polemiche, numeri alla mano, sembra apprezzare molto la nuova coppia alla guida di Battiti Live. La kermess musicale Made in Puglia, nella puntata di lunedì 29 luglio fa tappa con il palco principale in quel di Otranto. Ad aprire la serata, come di consueto è la conduttrice che sale sul palco e apre le danze con una nota climatica, fa un caldo incredibile, prima di entrare avevo gli svarioni, ma presentiamo chi gli svarioni ce li ha sempre, Alvin. Il compagno d'avventura raggiunge Ilari Blasi sul palco mentre lei insiste, dal lontano 1977. Il conduttore a questo punto si difende, ah, dovrei avere gli svarioni per la vecchiaia, ma guarda che io ho solo quattro anni più di te, ma ne dimostri molti di più, dice la collega, percepiti molti di più dopo una serata con te. In effetti sembriamo due vecchietti che litigano. Sempre cavalcando il tema, età, viene introdotta la terza conduttrice del programma. Con noi c'è una ragazza veramente giovane che purtroppo, a furia di frequentarci, è diventata vecchia anche lei, Rebecca Stafelli. Siamo vintage, mettiamola così, scherza la più giovane dei conduttori. In questo inizio di puntata c'è anche spazio per mandare un messaggio relativo alle polemiche che vedrebbero la nuova conduzione di battiti live non all'altezza della situazione, ovviamente sempre con l'arma dell'ironia. A sfoderarla è Alvin, che chiede alla collega, ma hai memorizzato i dischi d'oro, i dischi di platino, tutte le informazioni? Ma figurati, risponde ridendo Ilari Blasi e il collega, disponda, ed è giusto così, questa è una festa e ci si diverte anche senza essere precisi. E dopo aver inviato il messaggio forte e chiaro, la serata parte subito a bomba con Fedez ed Amy Schilla che rispondono anche alla curiosità della giovane fanviola che vuole sapere, visto che fanno musica insieme da quando hanno 16 anni, cosa lega i due artisti, che rispondono, ci uniscono tante esperienze, alcune non si possono raccontare ma di base la passione comune per il rap. Subito dopo arriva sul palco la regina del rock italiano, Gianna Nannini con cui i due conduttori non rinunciano a scattarsi un selfie d'ordinanza con il pubblico alle spalle. Poi, c'è da annunciare i rama sul palco decentrato, da San Ferdinando di Puglia, precisa Ilari e Alvin, ancora ironico, tutto si ricorda. Si divertono insomma, sul tema.